E adesso chiederei al dottor Marco Romanelli di chiudere questo primo ciclo per poi dare la parola all'assessore Rosatelli, che doveva prendersi tutto lì, vado, dottor Romanelli grazie. Allora grazie per l'invito e grazie perché è stato molto interessante gli interventi prima di me, hanno dato un sacco di spunti, spero di essere il più conciso possibile anche per attaccarmi a qualcuno degli spunti che ho sentito stasera. Allora come si dice se Atene piange Sparta non ride, per cui io sono un medico ospedaliero, sono il segretario aziendale di Anao, che è il principale sindacato dei medici ospedalieri, dirigenti ospedalieri anche non medici d'Italia e sono un neurologo e lavoro all'ospedale Molinette. Quindi non parlo solo del mio ospedale che ha comunque problemi, ma anche degli ospedali più di periferia, di provincia e anche noi siamo davvero in crisi, a volte mi viene l'immagine del titane Capompei per raccontarvi un po' quello che percepiamo e vediamo tutto intorno a noi. Dicevo se Atene piange Sparta non ride perché siamo fratelli, cugini sia mesi col territorio, se il territorio muore muore anche l'ospedale e viceversa. Cioè una realtà non può vivere senza l'altra e non può prosperare senza l'altra, quindi questa visione staccata di due monadi che non si parlano porta al disastro entrambi. L'esperienza del Covid ci ha sicuramente riprovato una volta di più, questo che ho appena detto perché il territorio è andato in sofferenza, tutto ciò che ha detto Agnoletto su come è stata gestita anche la pandemia, come è stata non gestita la pandemia nelle prime fasi e anche nelle successive, ha frantumato tutte le linee di difesa e a volte manco erano state tirate su le linee di difesa e l'ultima fortezza sono stati gli ospedali che sono stati presi d'assalto e devastati, scusatemi che sta questa immagine dal Signore degli Anelli, ma insomma questo è quello che abbiamo percepito, cioè noi ci siamo sentiti come l'ultimo bastione, se cascava l'ultimo bastione cascava tutto e in molti casi ci è andato vicino l'ultimo bastione a cadere e qualche volta è caduto e i numeri che abbiamo raccolto stanno lì a raccontarlo. Il DM71 c'è sicuramente bisogno di, io sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto la collega Rubatto, è drammaticamente necessario cambiare, svoltare e rivoluzionare quello che si è ampiamente dimostrato come non più efficace sul territorio. Lascia perplessi anche noi che siamo osservatori non direttamente coinvolti, ma anche su questo ciò dei dubbi che non saremmo direttamente coinvolti, vedremo se avremo tempo di parlare di questi dubbi, sul fatto che poi sia un processo di machillage o di edilizia pura, fai delle scatolone vuote, non sai con cosa riempirli, con chi riempirli e cosa ci fa la gente dentro, ammesso che tu trovi gente dentro. Trovo molto interessante lo spunto di Agnoletto sul pericolo che il privato entri in questo e io ne parlavo anche con i miei colleghi mesi fa, perché il privato dato in pasto, il territorio dato in pasto al privato, la prevenzione, la pubblicità, l'uso di indicazioni di dieta, di prodotti, cioè il privato che entra sul territorio e va nelle case dei cittadini ci sembra ancora più pericoloso di quello che ha fatto per quanto riguarda la cogestione dei letti e dell'attività ospedaliera. Quindi tanti punti interrogativi, solo una piccola sfumatura dalla nostra parte, cioè l'esperienza del Covid ci ha fatto sentire tante voci, tante opinioni, attenti a non esagerare nell'andare da un errore all'opposto. Noi abbiamo sentito tanto parlare anche in fase in cui non c'era alcuna cura domiciliare di cure domiciliari, di terapie domiciliari, cioè cercare il paese di Shangri-La in cui noi abbiamo tutto il rispetto dei medici di medicina generale, ma sono esseri umani come noi, non è che sono maghi, che sono uni e treni, che possono coprire migliaia di abitazioni in cui si presentano tutte le ore del giorno e della notte per andare incontro ai bisogni dei pazienti. Io ne parlavo giusto stamattina di una paziente che sfortunatamente ha un problema terminale e ricordo purtroppo come figlio di una mamma che è morta qualche anno fa a casa, che morire a casa è sicuramente poetico e importante per molte persone, ma che se fatto in un modo non adeguato, per te vi assicuro tutta la poesia, e per farlo in modo adeguato c'è bisogno proprio di tante, tante, tante risorse, ma proprio tante risorse e ripeto non lo dico da medico, lo dico da figlio di madre che ho pulito negli ultimi giorni e ricordo che per farlo in modo dignitoso ci voleva tanto, tanto, tanto di più e io non sono sicuro che questo sistema sarà in grado di fornire tutta questa marea di risorse in cui noi raccontiamo ai nostri cittadini che verranno le mitiche armate di angeli a casa ad aiutare tutti, perché temo che sia un paese di Shangri-La e quindi attenzione ad andare da una visione ospedalocentrica in cui il territorio non esiste, è un deserto e tutti si riversano disperati in pronto soccorso per cercare aiuto, a una promessa di squadre che arriveranno nelle case ad aiutarvi, angeli che vi aiuteranno, e l'ospedale demolirlo perché non c'è più bisogno dell'ospedale. Dalla parte dell'ospedale continuiamo a sentire da anni riduciamo i posti letto, riduciamo i posti letto, riduciamo i posti letto perché il futuro non è in ospedale ma a casa, a casa, a casa, e sì a casa, però ci sono delle patologie che a casa non le gestisci, neanche il migliore di noi riesce a gestirle a casa, cioè dell'ospedale c'è comunque bisogno, non si può passare da un eccesso all'altro, cioè ripeto l'immagine dei fratelli siamesi in cui si ammazzi uno, ammazzi anche l'altro, per me è particolarmente calzante, né buttando tutto sull'ospedale, né buttando tutto sul territorio risolvi il rebus. Per quanto riguarda la visione olistica, e qui purtroppo io ho un bias di formazione, io sono uno specialista, neurologo, ultra specialista, che lavora in un centro ultra specialistico di gestione di puro di ictus, quindi l'ictus in tutte le sue fasi, ma parlo e come segretario ANAO e come membro anche del Consiglio regionale di ANAO mi confronto con i colleghi degli altri ospedali, ho lavorato dieci anni a Chivasso, che è un ospedale, si potrebbe dire, di frontiera, e facevo il neurologo a 360 gradi. Faccio un esempio, nella mia specialità, gli avanzamenti, la ricerca, le nuove tecnologie, le nuove terapie, le nuove diagnostiche, non permettono neanche a uno specialista di tenersi aggiornato su tutto il sapere della sua specialità. Noi parliamo stasera del DM71, ma il cuginetto cattivo, il DM70, è lì che sta per arrivare, e io l'ho vista la bozza del DM70. Se il DM71 prepara le scatole vuote, il DM70 prepara lo zuppone. Cos'è lo zuppone? Ospedaloni in cui, per la carenza di specialisti, e in nome di un tempo d'oro in cui tutti facevano tutto, si ritorna a dire e a proporre l'idea del miglioramento con tutti fanno tutto. Cosa vuol dire? Si dividono gli ospedali in tre grosse aree, repartoni in cui butti dentro di tutto l'area di medicina, l'area di chirurgia e l'area dell'urgenza. E le guardie facciamo felicemente tutti insieme, per cui ti trovi il paziente con l'infarto che viene visto dallo pneumologo, il reumatologo che vede quello con l'ictus, a seconda di quando è di guardia 1. Questo è un modo mutuato in parte dall'industria automobilistica, il lean thinking dell'industria automobilistica di Toyota, in cui fai gli stabilimenti elastici, in cui non fai più un modello solo, ma ti adatti a quello di cui c'è bisogno, in quel momento è quello che le forze lavoro ti permettono di fare. Ora, applicato in industria automobilistica va bene, ma il rischio che noi prevediamo, se questo sarà l'applicazione, passa questa idea dei tempi d'oro in cui tutti vedevano il paziente come un pezzo unico, che sicuramente è necessario, sicuramente è necessario recuperare una visione più d'insieme, e sicuramente c'è bisogno di chi coordina, perché il paziente non può essere fatto a pezzi. Ma di nuovo, invito alla moderazione, cioè di non andare da un eccesso all'altro, perché passare dal paziente in cui il medico del mignolo sinistro non conosce le problematiche del mignolo destro, al paziente, alla situazione del medico tutto fare, e dell'ospedale Zuppone, in cui chi ti trovi davanti, di volta in volta lo Zuppone è una metafora da ristorante, di volta in volta l'esperto di pasta, di pasticceria, di minestre o di pesce, e lo mette a fare tutto, rischia di portarci nel giro di pochi anni ospedali in cui lavoreranno giovani alle prime armi, che si faranno l'esperienza, e poi dopo un po', quando avranno avuto l'esperienza fatta sulla pelle dei cristiani, rivenderanno questa esperienza alla clinica del ginocchio destro privato che gli aspetta a braccia aperta. E questo credo sia un pericolo che dovremmo avere tutti presenti. Vi ringrazio per l'attenzione.